il vincitore del primo giveaway siete stati cattivi non avete rispettato il regolamento salve soldati e benvenuti nel video estrazione giveaway e allora soldati soltesse come sapete c'era un giveaway aperto che si è tenuto al comic con ho distribuito questi bigliettini con sopra scritto un numerino per partecipare al giveaway vi metto qui sopra il video spiegazione dove appunto c'è il regolamento regolamento che non è stato rispettato da nessuno dei partecipanti al giveaway quindi io mi sento di prendere i provvedimenti il premio del giveaway erano 15 euro in fumetteria io essendo buono dovrei proprio annullarlo visto che nessuno ha rispettato il regolamento prendendo praticamente per il culo però vabbè siccome sono buono non ci saranno 15 euro in fumetteria ma bensì 10 euro in fumetteria e non farò doppia pesca cioè un vincitore e sostituto ma farò soltanto un vincitore il numero che esce mi contatta a me sulle pagine facebook instagram subo sotto questo video quindi sempre warringale 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 mi contatta lì mi contatta e andiamo insieme in una fumetteria può spendere 10 euro faremo un vlog un video vlog in questa fumetteria dove effettivamente io e il vincitore andiamo compra quello che vuole pago ringrazio e poi il prossimo giveaway lo farò quando ci sarà più gente diciamo abbastanza matura per rispettare il regolamento quindi iniziamo subito con l'estrazione ho preso carta penna e ho fatto questo precedimento qui musica musica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.